Scarta la carta, scarta la carta, mille accendini, facci sognare Ma quanto sono finti i socchiari, guardate sono le lenti che diventano scure e poi anche chiare, trasparenti però specchiate Figata eh? Che figata ragazzi! Andiamo con lo scarta la carta, facciamo finta che non l'ho scartato Facciamo finta che... Apro, oh oh oh, ma che sarà mai, che sarà mai? Quindi, allora, questo, questo qua dall'Inghilterra, sono delle proteine che però si squagliano, si possono squagliare Ecco, mandava, vedi un po' quant'è la cosa, omega 3, 2 grammi, quindi ci sono i grammi e ci sono i grassi questi, gli omega 3, gli omega 6 I carboidrati 10% e poi ci stanno invece parecchie proteine Ecco, mandava, quando voglio aumentare il fabbisogno proteico, tipo la notte che voglio che sia molto lenta la cosa Posso squagliare queste proteine qua, che sono d'origine completamente vegetale, nel latte E quindi, e quindi mi sono comprato sta cosa qua E poi ragazzi, questo lo aspettavo, è davvero una figata, non posso dire di essere sorpreso perché l'ho già aperto, l'ho provato È il termometro che praticamente ti misura la temperatura, basta semplicemente avvicinarlo alla fronte Andiamo a vedere questa grande meraviglia Allora, apro, attenzione ragazzi, come posso spendere un po' di soldi? Ho visto questo qua, dico, guardate, guardate, questo mi manca ragazzi, mi manca Guardate che figata Allora, qui lo metti, testa, cioè testa oggetti, testa metti Dopodiché semplicemente fai on, dopo aver messo le pile, le pile già le ho messe Ci siamo ragazzi On, si accende, vedete? A questo punto lo punti verso, fai scansiona, scan Scansiona e lo metti verso la fronte Fatto! Temperatura? Lo rifaccio, eh Che dice? Niente Aspetta che forse mi devo avvicinare di più Non vai, non c'è bisogno di toccabile, devo solo avvicinare L Che è? Troppo vicino, troppo lontano? Lontano L è lontano L è lontano? L è lontano Grati? 36,2 Ragazzi, vieni a questa che ti misura la febbre pure a te Bisogna da qua No, te devi avvicinare, devi stare tipo a un centimetro Lo rifaccio, eh Allora, on, off Lo rifaccio, scansiona Vediamo quest'altra cosa Forse i rumori Poi lascio 36,2 Vole quest'altra fronte Vediamo la fronte centrale Senza toccare, basta avvicinarsi No L Fa T, 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 T Poi Poi Pesco prolungato Vuol dire che l'ha presa Ah, da 36,2 Fantastico Adesso vi faccio vedere contro qualche oggetto Vediamo il tavolino Cambio, metto Casa E vediamo la temperatura del tavolo 5,5 gradi la temperatura del tavolo Vediamo la temperatura della scatola La scatola sarà più calda La scatola sarà a 9,3 gradi Vediamo la temperatura della carta Secondo me la carta è ancora più calda Che dentro c'è tutta La specie di farinetta 12 gradi Ripetiamo di nuovo la temperatura della testa Ok, questa è la testa Va vicino No, devo sentire il fischio prolungato Così No, quando fa sto rumore lo capisco già che non va No, non va, non va ragazzi Allora, devo capire qual è il trucco Anzi, chiediamolo nei commenti Devo capisco che dal rumore che non va No, qualche secondo ci vuole 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No Non lo so perché Più vicino? Ma non credo più vicino Così 1, 2 Spengo Riaccendo Ok, si sta riaccendendo Forse bisogna spegne e riaccende Quando cambia modalità 3, 4, 5 Ok, stavolta c'è 36 e 2 Oh, è coerente È coerente Adesso proviamo il palmo della mano No, dal rumore si capisce che non l'ha preso 6, 7, 8, 9, 10 No, non lo so perché Provo il dorso della mano Proviamo il dorso Grazie a tutti no ragazzi vedo che a leggere le istruzioni ditemi voi nelle istruzioni ciao ragazzi buona giornata a tutti